Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale a carico di GF 33 anni, già sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare e contestuale di vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Tribunale Lili Betano. La richiesta di sostituzione e aggravamento della già vigente misura cautelare è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Marsala dopo un'articolata attività di indagine condotta dagli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza intervenuti su richiesta della parte offesa per fatti che evidenziavano l'inadeguatezza della misura coercitiva non custodiale in atto. L'uomo infatti nel novembre del 2021 è stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa perché resosi responsabile di numerose condotte vessatorie e altamente pericolose ai danni della vittima, sfociate anche in gravi lesioni subite dalla donna consistite nella perdita di funzionalità di un occhio cagionata in occasione di un episodio che si è verificato nel 2021, tali da giustificare l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria del precedente provvedimento restrittivo. Grazie a tutti.